Nel primo trimestre 22 la regione Veneto ha visto aumentare del 43% le vittime sul luogo di lavoro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato significativo che riscrive la mappatura nazionale delle regioni più a rischio. Nei primi tre mesi si sono registrati 20 decessi sul lavoro, 13 durante l'orario di impiego, 7 avvenuti nel tragitto casa-azienda. Nel 2021 le morti registrate al 31 marzo erano 14. Con questi numeri il Veneto occupa la terza posizione nella graduatoria nazionale per numero di decessi, 183. Uno sconfortante posto sul podio per numero di vittime a livello nazionale che porta il Veneto in zona arancione nella mappatura dell'osservatorio della sicurezza. Il Veneto alla fine del primo trimestre abbandona la zona gialla, ovvero quella che include le regioni a minor rischio di mortalità. Utilizziamo l'indice di incidenza mortalità perché è lo strumento di indagine più efficace. Per spiegare l'emergenza, sottolinea Mauro Rossato, presidente dell'osservatorio di sicurezza di Mestre. Il rapporto tra numero di infortuni e popolazione lavorativa può definire e confrontare il livello di sicurezza dei lavoratori regione per regione, provincia per provincia. Per questo auspichiamo che tale metodo di indagine possa essere utilizzato concretamente e diffusamente per prevenire gli infortuni mortali. Per agevolare la lettura dei dati, l'osservatorio Mestrino ha ideato ed elaborato la mappatura del rischio di morte sul lavoro, dividendo l'Italia a colori proprio alla stregua della mappatura utilizzata durante l'emergenza. La zona arancione, quella in cui rientra il Veneto è la fascia che dopo la rossa raggruppa le regioni con l'incidenza tra le più alte per gli infortuni mortali sul lavoro, dunque superiore alla media nazionale.